Nutrire il pianeta, dice il claim di Expo 2015, ma dirlo e farlo non è la stessa cosa. Da qualche anno, ai secolari problemi di maldistribuzione del cibo, se ne aggiunge uno di quantità. Mentre le superfici coltivabili si esauriscono e i raccolti diminuiscono, la domanda di cibo cresce, per la domanda di sazietà che viene dalle economie emergenti. E se mangiassimo altro? Intorno a noi ci sono miliardi di creature che normalmente ci destano solo reazioni di fastidio, tedio o ribrezzo. E se provassimo a vederli come succulenti bocconcini? Gli insetti fanno parte della dieta di molte popolazioni del mondo, in particolare nelle zone equatoriali e tropicali, ma sono un inedito pressoché assoluto per l'emisfero boreale. A Bruxelles è stato organizzato un seminario sul nuovo cibo, che ha avuto come protagonista assoluto uno chef di origini italiane, Roberto Flore. Sono probabilmente il primo a servire insetti al Parlamento europeo e per me è davvero un onore. Spero vada tutto bene. Io sono sardo e la Sardegna è uno dei pochi posti d'Europa in cui è rimasta viva la tradizione di mangiare insetti. Abbiamo una speciale predibatezza che si chiama Casu Marzu. Attraverso questo prodotto nel 2013 sono entrato in contatto con il Nordic Food Lab. Ora mi sento parte di questa grande comunità di persone che mangiano insetti nel mondo. Il piatto scelto da Roberto, che a quanto sembra ha rescosso grandi apprezzamenti dai partecipanti, è stata la tostata di larve d'ape danese, una ricetta ispirata alla tradizione messicana che però utilizza le formiche. A parte le delicatessen, il problema del nuovo cibo con tutto quel che ne consegue in termini di protezione e sicurezza del consumatore è all'ordine del giorno delle istituzioni europee e dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare che ha sede a Parma. Dal polo opposto ai piatti a base di insetti stanno le nanotecnologie, gli animali colonati e i loro discendenti e derivati. Un cibo di Frankenstein rispetto al quale il diniego dell'Europarlamento, anche grazie all'impegno della pentastellata italiana Giulia Moi, è stato drastico. E Louis Beauvais, figura prestigiosa dell'ambientalismo continentale, lo ha ribadito durante i lavori del seminario di Bruxelles. Piuttosto che affidarsi ad avventurosi e pericolosi sperimentalismi, meglio ricorrere a un cibo genuino, nutriente e naturale come gli insetti, anche se hanno un po' più di zampe dei cibi a cui siamo abituati.